ciao colleghi oggi inizia questa avventura dell'avatar un messaggio per patrizia ho preso a parole che racconteremo in cartone animato questa professione di allungamento dei capelli ma la cosa importante ma come si rende l'allungamento dei capelli quindi oggi parleremo di marketing un marketing specifico per l'allungamento dei capelli extension point marketing è il percorso educativo che insieme a patrizia abbiamo intrapreso e vi ricordo l'otto di gennaio 2024 inizieremo il percorso per chi volesse iscriversi sotto il video troverete le informazioni trovere informazioni però potete anche scrivermi in whatsapp ok ve lo lascio qui sul video così almeno man mano che andiamo avanti per spiegare come l'extension poi lavora per promuovere le sue attività e quindi andiamo avanti andiamo alla seconda slate vediamo ok tavola dei contenuti allora quello che serve quello che dobbiamo fare dobbiamo avere delle idee primo chiare che cosa devo fare come iniziare allora per iniziare ci dovete frequentare ci dovete frequentare dovete iscrivervi al gruppo privato dove ci saranno tantissimi video ma anche tante dirette live insieme a patrizia dove racconteremo step e step tanti tanti e quindi bisogna prepararsi prepararsi non da soli con un bel supporto online in qualsiasi momento dove potrai farlo in diretta o le registrazioni potrai vederle per crescere dentro il gruppo poi comunicare la comunicazione è fondamentale per comunicare fuori dal al negozio prima bisogna prepararsi e comunicare insieme a dei colleghi per confrontarsi ma anche per imparare come comunicare adesso nel web fare un video oggi stiamo facendo un video in cartone animati spiegando un qualcosa che ci aiuti a migliorare economicamente nei nostri saloni e quindi ci dobbiamo prendere tutti questi strumenti innovativi dei social i social sono fondamentali in questo momento anche perché una volta perché eri bravo ma vale ancora lo stesso perché sei bravo però le persone non ti conoscono ti devi far notare devi diventare unico e quindi i social sono molto importanti per lavorare sui social hai bisogno sempre di un aiuto se non sei capace ma non devi far fare queste cose alle altre persone le devi fare te personalmente ma sono molto semplici e divertenti vieni nel gruppo e scoprirai quante cose belle si possono realizzare perché ti insegneremo come fare come fare a b e c una delle prime cose è un manifesto un manifesto semplice quante aziende ci danno ci danno dei manifesti dove noi possiamo trovare l'occasione per iniziare un discorso e di proposta poi tanti parrucchieri e trascurrano google map google map è uno strumento dei migliori in questo momento ma credo che lo terrà per lungo e lungo tempo e poi pian piano che andiamo avanti vi spiegherò meglio come fare pubblicità su google map gratuitamente e la cosa fondamentale per farci conoscere sono le recensioni delle persone e delle clienti voi nei negozi avete delle potenzialità incredibili e ve le fate sempre scappare andiamo avanti per capire come non farsi scappare queste occasioni allora una delle cose che mi accompagna da tutta la vita e tutta la carriera professionale è l'entusiasmo ora l'entusiasmo ce nasce o se lo gratti esce fuori secondo me se lo gratti esce fuori a tutti gli esseri umani l'entusiasmo perché noi siamo sempre l'essenza delle cinque persone che frequentiamo di più ma non per sempre quindi vi consiglio sempre di frequentarci perché dentro il gruppo ci sono tanti tanti parrucchieri che sono entusiasti di fare il loro lavoro e quindi è come la febbre ti avvicini a uno che ha la febbre io dico sempre io ho una malattia rarissima o si chiama felicità e tutte le persone che si avvicinano diventano felici proprio come un epidemia quindi adesso dopo che ho dato questa sviolinata a vorrei andare avanti insieme a voi prepararsi e la missione iscriversi a calorie group academy permette di accedere a tante opportunità potrai raccontare le tue esperienze ma le tue esperienze servono per il tuo allenamento esprimere le tue opinioni e riportarle dentro il tuo negozio avere gratuitamente contenuti e risposte già da professionisti che fanno questo lavoro da tantissimo tempo la missione conoscere il mercato del layer station aiutare l'utente avere chiarezza trovare i prodotti giusti che si adattano alla persona noi come parrucchieri io francesco e patrizia dopo tanti anni l'abbiamo provate veramente di tutte le fogge di tutte le aziende e quindi possiamo avere una potenzialità per decidere personalmente per il nostro negozio quello che utilizzare però per le persone che ancora devono iniziare hanno bisogno di una storia e noi ve lo racconteremo dentro il gruppo allora proseguendo ancora i tuoi strumenti i tuoi strumenti oltre che una bella locandina ma questa locandina dove la possiamo mettere la metteremo in vetrina la vedrina deve comunicare un tema un argomento in modo chiaro il prodotto deve essere valorizzato e si deve vedere bene di solito entro nei parrucchieri e hanno le station dentro una scatola e tutti impicciati perché nessuno mai mette a posto e quindi quando si presenta qualche cosa non si presenta nel modo giusto per dare emozioni e questo nel gruppo privato ne parliamo spesso di come preparare e far vedere e far toccare per attivare i cinque sensi della persona i manifesti i manifesti pubblicitari e le candine sono tra i mezzi più comuni più comunicativi e più efficaci veicoli per un messaggio alle persone del grande pubblico perché da volta con una fotografia tu puoi cambiare fai un bel colore o fai un bel taglio già te lo pubblichi ma se fai una bella estensione e la racconti bene credo che il valore aggiunto non sia una messa in piega ma sia qualcosa di più e poi google map è la soluzione adatta a tutte le esigenze servizio efficace che consente di creare un profilo aziendale visibile nei primi posti nei risultati di google ma è veramente vero perché ogni volta che noi cerchiamo qualche cosa prendiamo il telefonino e andiamo a vedere se ci serve da comprare un qualche cosa in un negozio che è vicino quindi diventare leader nel tuo territorio è fondamentale ma da dove si parte si parte sempre dalle clienti dai social che comunicheremo da facebook a instagram per poi arrivare a come fare testimonianze savanta d'antonio e manuela bali la prima è una parrucchiera e la seconda è una cliente che hanno scritto queste queste cose su la mappa di google e vi garantisco sono delle testimonianze che la gente quando cerca un parrucchiere per fare un'estensione nel vostro territorio con il cellulare queste testimonianze fanno la differenza c'è un buon incremento mediamente dal 10 al 15 per cento mensilmente però importante e seguire i protocolli perché è una cosa semplice quando noi abbiamo finito un servizio chiediamo alla cliente di farci una recensione dato che adesso prendiamo appuntamenti dappertutto abbiamo il telefono della cliente nel momento che noi abbiamo parlato di farci una recensione ti mando il link che è molto facile molto facile perché quando la cliente arriva il link quando c'è questa emozione alta di aver successo in quello che è stato fatto ti scriverà qualcosa di carino e di simpatico per te e questo fa la differenza di tutte quelle persone che non stazionano ma che passano nel tuo territorio e possono notare questa cosa qua quindi la locandina eccola qua ve la presento porta aperta e station con quattro tecniche del delle station a tessitura clip a bioadesivo a connettori dove noi potremmo fare una proposta più ampia per quelle clienti che ne hanno bisogno concludendo questo video i passi fondamentali creare dei contenuti come io sto creando qui con voi questo contenuto per spiegarvi questa 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 tecnica molto semplice ma che ha un risultato fantastico creare storie io ho scritto un libro il canta storie favole per parrucchieri che sono delle favole motivazionali e per aiutare a creare un po' di creatività e scrivere non le favole ma scrivere quello che voi fate dentro i vostri saloni e poi invitare a una recensione questo è fondamentale ma non è una cosa che deve fare solamente il titolare ma devono essere formati tutto lo staff dallo sciampista al lavorante perché perché sono loro che traiano sono loro che lavorano e sono loro che hanno un rapporto più stretto con il cliente per comunicare questa bella cosa questo crea iniziative mensilmente non è che va fatto una volta all'anno ma io personalmente tutti i giorni sto comunicando però è anche vero anche se uno lo fa una volta a settimana e racconta il lavoro che fa nel salone sempre chiedendo alla cliente di fare una recensione potrebbe essere la cosa migliore per tutti quanti bene io credo che ci siamo raccontati un pochino e vi aspetto alla prossima puntata ciao e ciao